Le Cosimo presenta Radio Le Cosimo, la radio ufficiale del liceo scientifico Cosimo de Giorgi di Lecce. La voce degli studenti formato podcast. Interviste, commenti e reactions. I microfoni di Radio Le Cosimo sono pronti a tenervi compagnia in qualunque momento della vostra giornata. Sei triste perché il tuo partner ti ha appena scaricato? Guardi la sufficienza in matematica con un telescopio? Sei teso perché hai un'importante interrogazione? Hai finalmente deciso di aggiustare la tua camera? Oppure stai camminando e non vuoi incrociare qualcuno? Magari vuoi davvero iniziare a studiare? O le lezioni del professore sono troppo noiose? Non sai cosa fare mentre aspetti il tuo pacco di Amazon? Allora ascolta Radio Le Cosimo, con un podcast a settimana vi assicuriamo il Nirvana. Cosa aspetti? Ascolta i nostri podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e su Le Cosimo.it. E non perdere neanche una puntata. Seguici sui nostri canali social Le Cosimo.it per stare sempre aggiornato. E per info e collaborazioni iscriveteci alla mail redazione chiocciola lecosimo.it o attraverso il nostro canale Instagram lecosimo.it. Radio Le Cosimo. Il De Giorgi è nell'aria.